Mamma, devi abbassare la musica, non si può tenerla così alta tutto il giorno. Prima o poi qualcuno si lamenta. Ciao caro. Ciao. Sai cosa mi è successo stanotte? Ma cosa vuoi che ti sia successo? A te non succede mai niente. E invece mi ha rubato la macchina? Oggi è giovedì, devi fare la spesa, stasera viene Pietro. Siamo in venti in famiglia, non lavora nessuno, l'unica che lavora sono io, cucino io e devo anche andare a fare la spesa.